Ciao a tutti, oggi vediamo come utilizzare una mezza colomba che ci è avanzata facendoci un ottimo tiramisù. Gli ingredienti per questo dolce sono una mezza colomba magari anche che vi sia avanzata, cioccolato alle nocciole spalmabile, 250 g di mascarpone, 80 g di zucchero a velo vanigliato, 2 tazzine di caffè fateli belli lunghi caffè e cacao amaro. Questo è assolutamente uno di quei dolci un po' tutti pasticciati che si fanno quando c'è avanzato qualcosa in casa e dopo Pasqua tutti abbiamo più o meno una colomba, mezza colomba, qualche uovo di cioccolato iniziato che non sai più che cosa farci. La soluzione è sempre il tiramisù perché tu con un tiramisù puoi riciclare 2500 cose tipo una colomba è una perfetta base per un tiramisù. Oggi lo facciamo togliendo questo, togliendo quello, togliendo quell'altro per renderlo il più possibile light ma poi light impossibile non è e alla fine togliendo le uova e togliendo altri ingredienti fondamentali del tiramisù non è neanche un tiramisù ma è un modo di riciclare appunto una mezza colomba. Abbiamo con le fruste montato il mascarpone con lo zucchero a velo semplicemente senza niente. Poi abbiamo preparato un bel caffè lungo amaro. A questo punto prendiamo la colomba la tagliamo a fette, la mia è senza canditi. Andiamo su una teglia a mettere il caffè come quando si prepara normalmente un tiramisù. Ora mettiamo, spalmiamo sulle fette di colomba la nutella giusto per dare ancora un tocco in più di golosità che vi assicuro alla fine questo dolce anche se non ha le uova, non ha la classica cremina del tiramisù. Il risultato finale ha avuto molto molto successo a casa mia. Pocciamo le fette di colomba con la nutella nel caffè. Direttamente nel caffè facciamo un primo strato di teglia, copriamo tutta la base della teglia. Sopra ci andiamo a mettere naturalmente il mascarpone che abbiamo montato con lo zucchero a velo. Ora per chi volesse mettere qualcosina in più nel mascarpone si potrebbe aggiungere anche la panna montata però io ho evitato perché è già molto molto ricco così. Facciamo il secondo piano di nuovo fette di colomba con la nutella insuppate nel caffè sopra la superficie chiaramente classica. Adesso gli diamo l'aspetto davvero di un tiramisù, la ricopriamo con il mascarpone. Diamo la classica spolverata con il cacao amaro. Facciamo riposare questo dolce come tutti i tiramisù in frigorifero minimo un paio d'ore prima di portarlo in tavola. Naturalmente tutto quello che va in frigorifero va coperto con la pellicola. In frigorifero due ore e poi vedrete che anche questa ricetta così semplice e trasformata ha il suo perché. Vi garantisco che in tavola fa la sua figura ed era davvero molto molto buona. Spero che questa ricetta del recupero vi sia piaciuta. Arrivederci alla prossima! Sì! 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 Sì!